La nostra problematica innanzitutto è formare i giovani, perché molti giovani non sono propensi ed inclini a fare questo tipo di lavoro. Questo è un tipo di lavoro che richiede molta manualità, le macchine come vedi ci sono, ma le macchine vanno avanti con l'operatrice. L'operatrice se non è più che addestrata e formata, professionalmente parlando, rimane un po' difficile, però noi siamo sempre propensi ed inclini a aiutare e a formare queste persone, anche assorbendoci dei costi oneri a carico nostro, formando e praticamente pagando il dipendente, come giusto che sia. Questi sono gli ultimi mestieri che praticamente richiedono una certa manualità, ma non sono aiutati da nessuna parte, benché ricercati, perché Fendi, noi stiamo lavorando adesso per Dolce Gabbana, abbiamo lavorato per Prado, io ho lavorato per Giorgio Armani, ho lavorato tanti anni fa per il gruppo finanziario Tessile e praticamente queste aziende sono ricercatissime in questo ambito, perché noi siamo un po' alla punta dell'iceberg. Il tessile, è facile dire tessile, io però non posso essere qui parrato che faccio gli abiti da sera e se lei vede alle mie spalle, abbiamo delle operatrici che lavorano ago e filo come le sartine di una volta. Siamo ricercati da queste aziende, diciamo, queste aziende manufatturiere blasonate della moda italiana, e però siamo in carenza di manodopera, questo se non riusciamo e se non siamo aiutati da qualche parte, io anche le istituzioni, perché le istituzioni francamente le vedo un po' latitanti. Ecco, è una carenza di personale, come dice lei, qual è il suo invito a chi è magari appassionato di questo mestiere di presentarsi qui da lei? Certamente, io ho una serie di curriculum che praticamente sto selezionando, sto visionando, il 99,9% non hanno esperienza, però diciamo, ecco, ultimamente io ho assunto tre persone che non avevano esperienza, ma c'è una piccola infarinatura con il nostro settore, gli ho fatto partire proprio, ovviamente siamo partiti come apprendistato, perché sono giovani, però su 20 ne sono rimaste due. Lo stipendio si aggira, si parte da 900 euro, come apprendista, 1000, 1100, 1200. Ovviamente più cresci di livello e poi vediamo, saremmo dei sciocchi farci scappare delle risorse umane che non si trovano.